Il maltempo fuori stagione ha creato enormi disagi al comparto agricolo nazionale. In Abruzzo per ora, secondo quanto rilevato dalla Coldiretti, si registrano soltanto danni contenuti. Nei territori colpiti dal maltempo sono state avviate le procedure per la verifica dei danni e la dichiarazione dello stato di calamità. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del monitoraggio della situazione nelle campagne di tutta Italia, dove grandine, pioggia e vento forte, esondazioni ed allagamenti hanno distrutto coltivazioni, stalle e strade rurali con danni stimati in almeno 10 milioni di euro. In Abruzzo, sottolinea Mauro Del Ponte, segretario di zona della Coldiretti Pescara, le situazioni maggiormente critiche sono state provocate dalle esondazioni da alcuni corsi d'acqua e dalle grandinate dei giorni scorsi nell'area vestina. Qua in Abruzzo la situazione è sotto controllo, non ci sono stati danni rilevanti, anche se lungo i fiumi ci sono state delle esondazioni, ma poi l'acqua è stata riassorbita velocemente, quindi non sono stati provocati danni alle colture in atto. Dall'inizio della primavera a livello nazionale sono già 175 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato il nostro paese con violente grandinate, bufere di vento e piogge il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Più che altro con le forti piogge ci sono stati gli allettamenti dei cereali, del grano in particolare, e poi la temperatura che è sotto la media, quindi con l'abbassamento della temperatura c'è un rallentamento della crescita delle piante, della fioritura. Questi eventi potranno avere degli effetti sulle tasche dei consumatori, ci potranno essere degli aumenti per quanto riguarda le produzioni agricole? Ma al momento non si rilevano cambiamenti importanti, i danni sono molto contenuti.